Vi ringrazio a tutti per la partecipazione. Lo scopo della giornata è quello di divertirci innanzitutto, di fare una bella passeggiata, ammirare quello che di bello offre la nostra terra e poi soprattutto lo spirito dell'invasione è quello di pubblicizzare questi posti. Si pubblicizzano seguendo alcune semplici istruzioni. Abbiamo fatto dei cartelli in cui ci sono scritti degli hashtag che sono il cancelletto con il seguito delle parole che si mette di solito quando si pubblica sia su Twitter o su Instagram o su Facebook. Pubblicizzando noi abbiamo iscritto l'evento alla manifestazione che si chiama Invasione Digitale che è di carattere nazionale ma ho letto ieri addirittura internazionale in quanto ho visto che ci sono state programmate delle invasioni sia in Germania, in Polonia, in Inghilterra, in Francia, un po' dappertutto. Quindi oggi facendo queste foto praticamente i nostri posti verranno pubblicizzati in tutta Europa praticamente e quindi li renderemo conoscibili diciamo su larga scala nazionale e internazionale. Francesco Geli, presidente dell'associazione Tourism Project, invasione compiuta? Direi di sì, invasione compiuta, mancano ancora alcuni visitatori che stanno per entrare nella grotta, li abbiamo fatti entrare pian piano a gruppo di dieci in modo da non afforlarli e fargli vedere per bene il panorama che si può vedere. Non è la prima invasione questa di Tourism Project? No, da quando sono nate le invasioni è la quinta che facciamo praticamente negli anni. Alcuni anni abbiamo invaso dei siti culturali tipo la Chiesa del Carmine e altri anni abbiamo invaso dei posti più panoramici come il Sentiero del Tracciolino l'anno scorso e quest'anno abbiamo fatto il Sentiero del Vino dato che è fortemente attuale. Questa è un'iniziativa che si collega ad altre iniziative sia nazionali che internazionali? Sì, inizialmente pensavamo che fosse un'iniziativa prettamente nazionale. In realtà abbiamo scoperto che ci sono tante iniziative sia anche in campo internazionale. Abbiamo visto che ci sono iniziative in Inghilterra, in Francia, in Polonia, in Romania addirittura. Ecco, come funziona? Niente, praticamente abbiamo iscritto l'associazione a questo portale che si chiama Invasione Digitale che tutti possono facilmente guardare sul sito. Abbiamo registrato gli hashtag e questi hashtag promuovono su questa piattaforma internazionale le foto che vengono postate, dando appunto a chi lo guarda, diciamo, dando la conoscenza del luogo e quindi i luoghi sono pubblicizzati, diciamo, su questa piattaforma. Questo è un piede di vita che praticamente ha resistito nel tempo, avrà più di 50 anni praticamente, che è abbandonata e ancora resiste. Lo scopo che noi vogliamo ottenere, diciamo, è quello simbolicamente di adottarlo, che sia il segno di rinascita per tutta la costiera e per tutti i terrazzamenti. Ora praticamente è un piede di vita alicante, dovrebbe essere selvatico, verrà tagliato e verrà innestato successivamente e quindi dovrebbe rinascere, diciamo, a nuova vita. Invasioni digitali qui oggi sul sentiero del vino, anche i giovani di confrificoltura sostengono l'iniziativa. È un'iniziativa bellissima, hanno portato veramente l'entusiasmo e la voglia di fare e di credere ancora di più su questa terra. Complimenti ai ragazzi Tourism Project con in testa il presidente, l'ingegnere Celi e tutti coloro che oggi sono qua, le altre varie associazioni. Qua siamo nella Costa Viola, qui c'è l'IGT Costa Viola, che può dare tanto e ha dato tanto. Ovviamente oggi abbiamo visitato questo sentiero, il sentiero del vino, che è abbandonato, abbandonato in quanto non ci sono più delle nuove generazioni che si stanno dando da fare per produrre quello che qui era veramente un nettare di vino. Ecco, noi oggi con questa nostra presenza vogliamo comunque rivendicare l'importanza dell'IGT Costa Viola e rilanciare quella che è stata fino ad oggi una fiorente economia. Ecco, sono tante le idee percorrendo questo sentiero che possono stimolare i giovani magari per un futuro che possa portare qui anche sviluppo, economia, attività produttive. Ecco, la cosa principale come vedete oggi è legare quello che è il fun, ossia il divertimento, il turismo con quello che è l'enagostronomia. Ecco, oggi abbiamo voluto anche noi partecipare per raggiungere questo scopo, questa meta che può rilanciare sicuramente la Calabria. Siamo qui proprio di fronte al tunnel di Murà. Ecco, questa è una presenza storica che abbiamo sul territorio. Quindi legare l'enagostronomia, il turismo è sicuramente la formula vincente. Carmela Arfuso, indietro tutta anche oggi invasione del sentiero del vino. Sì, oggi abbiamo realizzato questa bellissima invasione con l'intento di conquistare proprio nel verso della parola la costa viola e farcela propria e far partecipare un gran numero di persone. Vedo che è avuto un'ottima riuscita. Stiamo per giungere al tunnel di Murà che è praticamente l'obiettivo ultimo di questa escursione ma soprattutto è anche quello di valorizzare tutta la costa viola nella sua bellezza, sia paeseggistica che come architettura muraria delle armacie. Indietro tutta non è concentrata solo su questa parte di territorio ma esprime maggiormente il suo impegno su Seminara, Barritteri e dintorni. Soprattutto sulla zona litorale di Barritteri, quanto riguarda il proseguo di questo sentiero che è il tracciolino, è più conosciuto, porta ormai completo, si può percorrere a differenza dell'ultima escursione che avevamo fatto, adesso è percorribile interamente, sono circa 14 chilometri e da Bagnara conduce fino a Palmi praticamente. Come sapete si trattava di una opera di ingegneria idraulica realizzata nel Seicento dal Marchese Concublet di Palmi. Ci occupiamo anche delle zone interne dove ci sono dei siti molto interessanti, si tratta di zone dove la Valle dei Mulini e dei Trappiti, che abbiamo già bonificato e molte persone sono già venute a visitarle e stanno ancora richiedendo di venire. Altre zone caratteristiche come i Caforchi, che è una zona, un canyon praticamente, dove vivevano i monaci basiliani o bizantini, dipende da se lo diciamo in senso latino o greco. E in quella zona, sulle pareti della grotta, ci sono delle rocce che conservano delle iscrizioni, poche rimaste rispetto a quelle originarie, perché l'abbandono e l'incuria purtroppo genera anche il degrado. Invasione compiuta qui sul sentiero del vino, impressioni? Allora, un sentiero bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo, posti veramente fantastici che la nostra terra mette a disposizione, anche se sono difficili da raggiungere. È la prima volta che partecipo a questo tipo di evento, ma veramente sono contentissimo. È sempre molto bello ammirare questi posti. Questi posti non sono facili da raggiungere, però grazie alle guide di oggi e all'associazione che noi sosteniamo, anche con la nostra Instagram e Serie Gio Calabria, sono riuscito a vedere uno spettacolo del nostro territorio. Ho avuto modo di guardare da un'altra prospettiva il mio paese, diciamo, molto suggestivo, bello. Una bella iniziativa quella di oggi. Sì, interessante anche molto. Da Soveria Mannelli, qui in visita al sentiero del vino, un percorso che vi mancava? Sì, ci mancava. Visto che abbiamo fatto tante volte il tracciolino, ci mancava il sentiero del vino. Poi l'abbiamo visto su YouTube o qualcosa del genere, ci è interessato. Ma voi solitamente fate questi giri, questi percorsi? Sì, sempre. Se conoscete un po' la rete anche nazionale di questo tipo di... Conosciamo Pollino, Sila... Questi siti hanno le caratteristiche uguali? Questo diciamo che è interessante, è un po' più aspro e più bello, di ampio respiro. I cultori come voi vanno cercando un po' queste... Qualcuno dice che non bisognerebbe toccarli, bisognerebbe lasciarli così proprio per essere fruiti in questo modo, così come sono. Qualcuno dice che nemmeno pulirli, insomma. No, è bello che sono originali, se togli l'originalità si perde il sentiero. Oggi che farete qui? Faremo questo sentiero che ci mancava, poi saremo Danino e vediamo se riusciamo a fare una cappettina poi a Scilla. Avete già percorso il tracciolino? Sì, più di una volta, più di una volta. Bello qui, da queste parti. Il posto è semplicemente fantastico, perché la natura qua ha dotato questo posto di una bellezza incredibile e voglio fare i complimenti a chi ha pulito questa scalinata, perché ha anche un valore storico, perché sentivo proprio dal vostro video che qua una volta salivano le donne con i cesti di Zibibbo in testa, per cui è bellissima e, ripeto, i complimenti a chi l'ha reso fruibile. Quindi non è poi vero che le cose vanno lasciate sporche, insomma. Sicuramente forse ragione bevi l'acqua, sempre nel vostro video ho visto, di non mettere le transenne, però effettivamente i siti vanno puliti, perché se no non sarebbero fruibili. Vanno resi fruibili, naturalmente, e poi valorizzati affinché diventino anche un momento economico importante per il territorio. Sì, ma io penso che in effetti poi il territorio di Bagnaro, ma anche di Scilla, di Palmi, abbia un giovamento da queste cose, insomma, perché ci viene gente, quindi si crea un indotto economico. Penso che sia interessante anche da questo punto di vista, insomma. Quindi buon percorso, sentiero del vino. Qui i nostri avi producevano vino veramente prezioso, perché tra l'altro era agricoltura eroica, quindi molta fatica. Sì, 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 sicuramente. Poi, visto che, insomma, il vino è una bevanda che abitualmente noi usiamo, per cui un doppio complimento. Complimento anche a voi che fate questi servizi, insomma, rendete nota questi posti, insomma. Michele, allora, dopo questa bella esperienza stamattina, dopo aver invaso il sentiero del vino, è chiaro che questa sosta è molto gradita. Assolutamente sì, adesso stiamo aspettando anche gli altri. Dopo questa bella mattinata che è trascorsa presso questo sentiero, è una bella iniziativa, è ben riuscita, devo dire. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni, a parte l'associazione Tourist Project, c'era presente indietro tutta di Barrettieri, Alba di Ceramida e altre associazioni anche di Reggio. Un'iniziativa molto importante, ricordiamo, perché fa parte delle invasioni digitali, un evento a livello, diciamo, nazionale, anche negli ultimi anni a livello europeo, ci ha permesso anche di condividere in rete queste bellezze naturali che abbiamo solo noi nella Costa Viola. Ma il percorso che abbiamo fatto io lo definirei semplicemente straordinario. Ma prima di parlare del percorso io dovrei parlare degli uomini che ci hanno favorito e ci hanno permesso di percorrerlo, anche sembra che sia un controsenso. Perché sembra, come dire, librarsi in un abbraccio verso il mare, verso Bagnara, ma io penso ancora di più verso il Creatore. una delle perle più belle che siete riusciti a portare, o sono riusciti questi giovani, a portare alla luce. Ed è compito loro che hanno raccolto questo testimone di renderlo pubblico e farlo, come dire, fruire al maggior numero delle persone. Io penso che questo è il futuro, perché le nostre bellezze sono queste e farle conoscere e creare turismo su questi percorsi io penso che sia la cosa più bella che si possa fare. Sentiero del Vino, invasione stamattina qui in questa fantastica e bellissima costa, non manca naturalmente il pane di Pellegrina e qui siamo con il presidente dell'associazione e della PCSA di Pellegrina che ogni anno organizza la sagra del pane di grano. Infatti è importante che al territorio e alla promozione del territorio attraverso questo sentiero vengono collegati i prodotti tipici, perché il turismo e la cultura legate alla gastronomia sono la fonte di sviluppo di un territorio. Quindi il pane di grano è il prodotto per eccellenza di quest'area che è sui pianori di Granaro, quindi siamo su Pellegrina e Ceramida. Quindi adesso, dopo un percorso di questo tipo, è chiaro che i visitatori o comunque coloro i quali fanno attività di trekking e quindi di percorsi di questo tipo, alla fine degustare i prodotti è il massimo che si può avere in un territorio come il nostro, quello di Bagnara. Bella esperienza stamattina, invasioni digitali qui assieme ad alcune associazioni del territorio. Bella giornata. Sì, è stata veramente una bellissima giornata. Volevo fare i complimenti a tutti quelli che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. Noi veniamo da Campo Calabro, quindi un territorio abbastanza vicino a questo qui di Bagnara, però è la prima volta, non conoscevamo questo percorso né tantomeno questo sentiero. Quindi ancora una volta rinnovo veramente il mio ringraziamento e spero che ci siano tante altre iniziative come quella di oggi. L'impressione di stamattina è stata abbastanza positiva, considerato il fatto che siamo propensi a queste cose, a seguire quelli che sono i sentiti naturalistici, quelli che possono essere i prodotti della nostra terra. Noi in prima persona stavamo cercando anche di fare qualcosa per aumentare anche i prodotti tipici o quelle che sono le peculiarità della nostra terra che in gran parte ancora oggi è l'agricoltura. Siete di Campo Calabro, fate parte di un'associazione, di un qualcosa? Io faccio parte di un'associazione, si chiama Proterra di Fiumara, che valorizza il borgo antico di Fiumara di Muro, che è il vecchio borgo dove sorgeva il castello. Mentre lui fa parte del club dei due mari, che rivaluta i fortini dell'area dello stretto, sempre nel comune di Campo Calabro. Quindi cerchiamo di prendere spunto anche dalle altre associazioni, creare dei legami con le altre associazioni, proprio perché il territorio è bello tutto, è bello da vivere e da scoprire tutto quanto. Una bella zona pure quella. Sì, una bella zona anche quella. È bello interagire anche con le altre associazioni e vedere più sfaccettature del territorio. Quindi oggi siamo voluti essere partecipi e partire in questa zona che è stupenda e riscoprire, diciamo, quelli che erano i vecchi vigneti con le vecchie armacie o macerie, come le chiamate qui. Faticoso, faticoso. Faticoso ma bellissimo. La salita era faticosa, dai. La salita. Però adesso qua ci tratteranno bene. Si prospetta un bel pomeriggio. Anche l'Alba di Ceramida è impegnata nella valorizzazione di questo territorio. Veramente buongiorno a tutti. Anche Ceramida, come si vede, Alba di Ceramida, è impegnata appunto nella valutazione e rivalutazione di questo sentiero che è un toccasana veramente per il cuore e per la mente. E anche, diciamolo pure, per gli occhi. So che ci sono iniziative in corso prossimamente. Sarete impegnate anche alla rivalutazione di alcuni siti. Bene, ci tengo a precisare che si tratta esattamente di un sito molto bello, già, come dire, già bello di suo, perché anche se la vegetazione la fa da padrone, però ci siamo presi di impegno di ripulirlo e renderlo fruibile. Per renderlo appunto a nero di congiunzione a questi che sono già i sentieri del vino e il sentiero del trecciolino. Oggi è una bella giornata. Bene, bellissima direi, perché con tutta questa bella gente sono cose belle. Una bella mattinata questa di oggi, dai. Auguriamo che continui sempre così. È bellissimo. Hai visto quanta gente che ha visto il sentiero e adesso questo momento di sosta tantissimo, apprezzato tantissimo. Speriamo che continuiamo su questa strada e ci sarebbe da lavorare e da migliorarci soprattutto. Assolutamente sì, ma ce la state mettendo tutta come associazione, anche come singola. Speriamo che l'alba diventa sempre più grande e di essere sempre di più. Ora, ma che stai mangiando? È un pezzo di pitta quantiforno. È favoloso. Francesco Geli, invasione non solo compiuta ma riuscita. Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che sono prodigati alla riuscita dell'evento. Alle associazioni, l'alba di Cianamida, l'associazione Indietro Tutta, Confio Agricoltura con l'amico Peppe Barbero che è venuto da Reggio, mio cugino Antonio Alfuso che ha fatto tantissimo e ci ha ospitato in questa splendida località. E ancora la stampa che è sempre presente e fa un'opera di promozione altrettanto importante quanto quella dell'invasione. Alla prossima invasione allora. Alla prossima invasione, al prossimo anno, speriamo sempre più numerosi e con sempre maggiori risultati. Un saluto per tutti e auguri.